Ciao, sono Loretta del gruppo Amici della Montagna di San Giovanni in Quattotto e sono qui per spiegarvi l'escursione del 13 ottobre che faremo ai Valveri di Parcines in Val Venosta. Partiremo in Pullman alle 6.30, raggiungeremo Parcines, inizieremo il sentiero in leggera salita e entreremo nei Valveri. Vi spiego, i Valveri sono canali di irrigazione con l'acqua raccolta dalle fusioni dei ghiacciai per irrigare i campi sottostanti. Questi canali hanno un sentiero che li segue e noi faremo questo sentiero attraverso i boschi. Poi, lasciati questi canali, saliremo un sentiero preistorico che ci porterà in salita, attraverseremo il Maso Ebner con punto panoramico sulla città di Marano. Seguiremo ancora in salita e raggiungeremo Prunstar, che è il punto più alto dell'escursione. Poi, in leggera discesa, raggiungeremo la cascata più alta dell'Alto Adige, dove qui faremo sosta a pranzo. Visitata la cascata e foto di Rito, scenderemo, raggiungeremo Birkenwald e entreremo ancora sui sentieri Valweg per ritornare a Parcines dove finisce la nostra escursione.